Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, in maniera sicuramente un po' fortunosa siamo andati in vantaggio, però poi abbiamo creato le occasioni per aumentarlo questo vantaggio e sarebbe stato importantissimo riuscirci. Invece non siamo stati in grado di fare il raddoppio. Poi nella ripresa, sia per merito degli avversari che anche per dei meriti nostri, purtroppo abbiamo perso le distanze, non comandavamo più la partita, abbiamo subito il gol del pareggio, abbiamo avuto un po' di sbandamento e abbiamo provato a riprenderla per cercare questi tre punti che volevamo in tutti i modi, ma non ci siamo riusciti ed è un peccato non esserci riusciti, però ovviamente, come dico sempre, quando non ci si riesce bisogna sapersi accontentare anche di uno perché è importante fare dei passi avanti. Noi siamo molto ambiziosi e quindi cerchiamo sempre di guardare avanti per provare a fare dei passi in avanti e oggi abbiamo provato in tutti i modi a cercare di ottenere questi tre punti, non ci siamo riusciti e poi, oltre ad essere ambiziosi, siamo anche realisti e quindi ci prendiamo questo punto e guardiamo la prossima partita. Perché in campo ci sono anche gli avversari che delle volte riescono a metterti in difficoltà, come sono stati in grado di farlo oggi i nostri avversari. Noi avremmo potuto resistere, ma oltre che resistere avremmo potuto continuare a giocare come abbiamo fatto nel primo tempo e sicuramente avremmo avuto delle altre occasioni. Non siamo stati in grado di farlo, abbiamo preso gol, abbiamo avuto un attimo di sbandamento e poi siamo ritornati in avanti provando ad ottenere questa vittoria che purtroppo non è arrivata. Il modulo era cambiato già nel finale del primo tempo e credo che non ci avesse condizionato più di tanto. Quindi, ripeto, sono stati i meriti degli avversari perché ci sono sempre i meriti degli avversari e poi sono stati dei meriti nostri che avremmo potuto gestire meglio il gioco, non perdere le distanze e sicuramente rimanere in partita meglio di come abbiamo fatto. Il pareggio lo prendiamo, però credo che abbiamo avuto qualche occasione in più della salernità nel primo tempo e nel secondo tempo non ne ricordo tantissimo della salernità inoltre il gol, quindi penso sia un pareggio che alla fine ci prendiamo, ma forse dire che è un pareggio giusto forse è un po' eccessivo. Io non commento mai queste cose perché ho tanto rispetto ai tifosi, quindi noi ci mettiamo tanta passione, tanto entusiasmo e tanto lavoro per cercare di fare sempre meglio, poi vedremo se alla fine i tifosi saranno contenti di noi o meno, però dico sempre ai ragazzi che non dobbiamo avere mai nulla da recriminare, oggi ne abbiamo dato tutto quello che avevamo per ottenere la vittoria e purtroppo non ci siamo riusciti. È stato più contentativo la voglia di ridare l'equilibrio alla squadra che in quel momento, avendo perso le distanze, non riusciva né a giocare né a saper difendere bene, quindi ho provato a ridare l'equilibrio alla squadra, poi con i due cambi successivi li ho fatti per cercare di andare a trovare questi tre punti che avremmo voluto in tutti i modi e purtroppo non siamo riusciti a prendere. Ho messo un giocatore offensivo, dovevo scegliere tra loro due, la settimana scorsa Antonio ha avuto questa opportunità che aveva saputo sfruttare, pensavo fosse il cambio migliore in quel momento. Noi siamo andati avanti con un punto, ne avevamo voluti tre, non ci siamo riusciti e pensiamo già alla prossima che sarà altrettanto difficile come tutti i risultati della giornata di oggi ci hanno dimostrato.